Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo... Beh, un attimo, eh Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo... Scusate Bella a tutti ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi praticamente siamo qui al diving E andremo a fare l'immersione e andiamo a vedere se vediamo qualcosa di interessante Non lo so, non lo so Andiamo a vedere che cosa riusciamo a vedere Quindi ci vediamo dopo, buona misione Bella ragazzi Ok ragazzi, stiamo per salire sulla barca Con Matt Ci vediamo dopo Forse Forse Ok, bella ragazzi, in questo momento siamo quasi per raggiungere il punto di immersione E siamo pronti Come vedete, mi sono trasformato in fiamma dei fantastici quattro Bella ragazzi, ciao Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.